Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori con grande dispiacere segnaliamo un grave gutto per il mondo della musica questa in foto era la leggendaria cantante brasiliana Gal Costa davvero un'icona del paese carioca Gal Costa è stata probabilmente la cantante carioca più famosa di tutti i tempi è scomparsa a seguito di un ricovero dovuto a un nodulo nella cavità nasale destra la vediamo in foto con il grande Pippo Baudo Gal Costa ha fatto la storia della musica brasiliana tra i suoi brani più famosi ricordiamo baby e divino maraviglioso il secondo canale di Marco Liguori con sgomento e dispiacere ricorda un'icona della musica mondiale soprattutto della musica brasiliana Gal Costa scomparsa a 77 anni amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti